Paggelle, voti e tabellino di Lazio Juventus, match valido per la trentesima giornata di Serie A, Marushic allo scadere fa gioire Tudor, che flop per Allegri. La Lazio batte la Juventus e nel big match della trentesima giornata di Serie A, decisiva una rete allo scadere di Marushic che con un colpo di testa preciso non ha lasciato scampo a Scesni. Bianconeri decisamente sottotono con la Lazio brava a crederci fino alla fine riuscendo a legittimare quanto fatto buono nell'arco dei 90 minuti. Il tabellino dell'MATCH.Lazio Juventus 1-0.MARCATORE, 90-3 Marushic Lazio, 3-4-2-1, Mandas, Gila, Romagnoli, Casale, Felipe Anderson, Camada, 80 Gendusi, Cataldi, 80 Vecino, Marushic, Pedro, 57 Isaacsen, Zaccagni, 83 Luis Alberto, Castellanos, 57 Immobile. Adisp, Sepe, Renzetti, Patrick, Isai, Hall, IgorTudor.Juventus, 4-3-3, Scesni, Danilo, Bremer, Rugani, De Sciglio, 46 Lindy Jr., Miretti, 46 Mecheni, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, 63 Wea, Kin, 80 Sekulov, Chiesa, 68 Ildis. Adisp, Pinsoglio, Perin, Gatti, Gialò, Nicolussi, Caviglia, Nonge. All, Massimiliano Allegri.Arbitro, Andrea Colombo, Sezione Como, Assistenti, Preti, Vecchi, 4 Ufficiale, Marchetti, V. AR, Mazzoleni, AVAR, Kifi.Note. Ammoniti, 29 Allegri, J, 71 Lindy Jr., J, 75 Wea, J, 90 più 1 Immobile, L.